Cosa è la discinesia della cestifellea? Discinesia della cestifellea, o discinesia biliare, è una malattia in cui vi è uno svuotamento incompleto della cestifellea. Normalmente una sostanza chiamata bile lascia la colecisti attraverso un tubo noto come dotto biliare ma, con discinesia della cestifellea, la cestifellea non è in grado di contrarsi normalmente per pompare la bile. La persona sperimenta sintomi simili a qualcuno con calcoli biliari, in cui il dotto biliare viene bloccato da calcoli. I sintomi della discinesia della colecisti includono tipicamente nausea e dolore nella parte superiore destra dell'addome, spesso riscontrati dopo aver mangiato cibi grassi. Il trattamento comunemente comporta la rimozione chirurgica della cestifellea. L'insorgenza della discinesia della colecisti può essere piuttosto improvvisa se si verifica in associazione con un'altra malattia. Al momento del recupero dalla malattia, la discinesia può andare via e non tornare. La discinesia della cestifellea può anche svilupparsi gradualmente per un periodo più lungo, quando si pensa che sia causata da un movimento ridotto, spesso definito come un disturbo della motilità, che colpisce i muscoli che controllano lo svuotamento della cestifellea. I sintomi della discinesia della colecisti possono comportare dolore nelle ore successive al pasto. Il dolore è tipicamente sentito sul lato destro del corpo, nella parte superiore dell'addome. A volte il dolore può sembrare di penetrare fino alla scapola. Si verifica spesso dopo aver mangiato cibi grassi o piccanti e può essere accompagnato da nausea e gonfiore. Poiché i sintomi di una persona con discinesia della cestifellea sono molto simili a quelli di qualcuno che ha calcoli biliari, sono necessarie delle indagini per fare una diagnosi. Le scansioni ad ultrasuoni possono essere effettuate, così come l'endoscopia, in cui uno strumento di osservazione sottile viene passato attraverso la bocca per indagare lo stomaco e l'intestino superiore. Se non ci sono prove dei calcoli biliari, vengono utilizzate scansioni di medicina nucleare per esaminare quanto bene la colecisti si sta svuotando. Viene iniettata una sostanza radioattiva che si raccoglie nella bile e viene somministrato un ormone per fare contrarre la colecisti. Nel frattempo, una telecamera nucleare riprende un'immagine della cistifellea in azione e la quantità di bile espulso può essere misurata. Se poca o nessuna bile viene espulsa dalla cistifellea, ciò suggerisce discinesia. Generalmente, la condizione viene trattata con una procedura nota come colecistectomia, in cui la cistifellea viene rimossa chirurgicamente. L'operazione può essere eseguita utilizzando un intervento chirurgico del buco della serratura, dove vengono eseguite solo piccole incisioni, e i pazienti non hanno bisogno di rimanere in ospedale durante la notte. Nella maggior parte dei casi, le persone sperimentano un miglioramento di alcuni o di tutti i loro sintomi dopo l'intervento chirurgico. Anche se la bile è necessaria per digerire il cibo, la rimozione della cistifellea non impedisce la digestione. La funzione della cistifellea è di immagazzinare la bile, che è fatta nel fegato, e, dopo la colecistectomia, l'unica differenza è che la bile drena continuamente nell'intestino invece di essere immagazzinata e rilasciata dopo i pasti.